Elena Stabile, leggerò la presentazione di Marta da Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi. Hashtag frequentiamo il futuro. «Molto piacere», disse Marta. «Chissà perché sono venuta a una serata come questa, ma la musica è invitante e la serata magnifica. Oggi ho comprato il Lisboa. Sfortunatamente non parlava dell'alentegiano che la polizia ha massacrato sul suo carretto. Parlava dello yacht americano più lussuoso del mondo. Non mi sembra una notizia interessante. E Pereira, che sentì un ingiustificato senso di colpa, rispose «Il direttore è in ferie e alle terme. Io mi occupo solo della pagina culturale». Marta si tolse il cappello e dal cappello usce una cascata di capelli castani che avevano riflessi rossi, sostiene Pereira. E così lui le chiese «Lei cosa fa nella vita, signorina?». «Scrivo lettere commerciali per una ditta di import-export. Lavoro solo la mattina, così il pomeriggio posso leggere, passeggiare e qualche volta vedere Monteiro Rossi». Pereira sostiene che trovo strano che lei chiamasse il giovanotto Monteiro Rossi, col cognome, e disse, tanto per dire, «Pensavo che lei fosse della gioventù salazarista». «E lei?» rispose Marta. «Oh, fece Pereira, la mia gioventù se ne è andata da un pezzo. Quanto alla politica non me ne interesso molto. Non mi piacciono le persone fanatiche». «Bisogna distinguere, dottor Pereira, tra fanatismo e fede, perché si possono avere degli ideali, per esempio che tutti gli uomini siano liberi, e uguali, e anche fratelli». «Mi scusi, mi sono messa a recitare la rivoluzione francese». «Lei crede alla rivoluzione francese, dottor Pereira?» «Teoricamente sì», rispose Pereira, «teoricamente». E a quel punto i due vecchietti della viola attaccarono a suonare un valser in fa, e Marta disse, «Dottor Pereira, mi piacerebbe ballare questo valser con lei». Pereira si alzò, sostiene, le tese il braccio e la condusse fino alla pista da ballo, e ballò quel valser con trasporto, e intanto guardava il cielo e si sentì minuscolo. «C'è un uomo, attempato, che balla con una giovane ragazza in una piazzetta qualsiasi dell'universo», pensò. «E intanto gli astri girano, l'universo è in movimento, e forse qualcuno l'asso ci guarda da un osservatorio infinito». Poi ritornarono al loro tavolino e Marta disse, «Montairo Rossi mi ha parlato del suo progetto giornalistico. Mi sembra una buona idea. Ci sarebbero un sacco di scrittori che sarebbe l'ora che se ne andassero. Per fortuna quelli insopportabili d'annunzio ci ha lasciati qualche mese fa, ma anche quella beghina di Flodella, anche di lui basta, non ne pare. E poi quel furfante di Marinetti, che dopo aver inneggiato alla guerra si è schierato con le camicie nere, sarebbe ora che ci lasciasse anche lui, è il prima possibile». Pereira cominciò a sudare leggermente, sostiene, e sussurrò, signorina, abbassi la voce. «Non so fino a che punto si rende conto del luogo in cui ci troviamo». E allora Marta si rimise il cappello e disse, «Ave io di questo posto sono stufa. Vedrà che tra poco cominceranno anche a intonare marce militari. È meglio che la lasci con Montairo Rossi. Sicuramente avrete cose da discutere. Intanto io me ne vado fino al Tago. Ho bisogno di respirare aria fresca, dottor Pereira». Sono Cosimo Pasquarelli e oggi vi leggerò «Le ragioni del cuore», tratto da Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi. E per questo lancio l'hashtag. Frequentiamo il futuro. Montero Rossi si raviò la ciocca di capelli sulla fronte e disse, «Non so come dire. Lo so che lei, dottor Pereira, esige professionalità, che io dovrei pensare col cervello, ma il fatto è che ho preferito seguire altre ragioni. La verità è che... la verità è che ho seguito le ragioni del cuore. Forse non avrei dovuto. Forse non avrei nemmeno voluto. Ma è stato più forte di me. Le giuro che sarei stato capace di scrivere un ecrologio su García Lorca con le ragioni dell'intelligenza. Ma è stato più forte di me. E poi c'è Marta. Io sono innamorato di Marta. E anche questa è una ragione del cuore. Non le pare. Al suo modo, anche questo è un problema. Il problema è che lei non avrebbe dovuto mettersi in problemi più grandi di lei. Avrebbe voluto dire Pereira. Il problema è che il mondo è un problema. E certo non saremo noi a risolverlo. Avrebbe voluto dire Pereira. Il problema è che fra noi ci deve essere un rapporto corretto e professionale. Avrebbe voluto dire Pereira. E lei deve imparare a scrivere. Altrimenti, se scrive con le ragioni del cuore, lei andrà incontro a grandi complicazioni. Io lo posso assicurare. Ma non disse niente di tutto questo. Disse. Le ragioni del cuore sono le più importanti. Bisogna sempre seguire le ragioni del cuore. Questo i dieci comandamenti non lo dicono, ma... glielo dico io. Pereira si alzò. Gli tese la mano e gli disse Arrivederci, Monteiro Rossi. Perché gli disse quelle cose? Mentre avrebbe voluto dire tutt'altro. Mentre avrebbe voluto rimproverarlo. Magari licenziarlo. Pereira non sa dirlo. È difficile avere una convinzione precisa quando si parla delle ragioni del cuore. Gianluigi Fogacci. Leggerò un brano da Sostiene Pereira di Antonio Tabuchi. Lei ha un forte superego, dottor Pereira. E questo superego sta combattendo con il suo nuovo io egemone. Lei è in conflitto con se stesso in questa battaglia e dovrebbe abbandonare il suo superego. Dovrebbe lasciare che se ne andasse al suo destino come un detrito. E di me cosa resterebbe, dottor Cardoso? Chiese Pereira. Io sono quello che sono. Con i miei ricordi. La vita trascorsa. Le memorie di Coimbra e di mia moglie. Una vita passata a fare cronista in un grande giornale. Di me cosa resterebbe? L'elaborazione del lutto, disse Cardoso. È un'espressione freudiana, mi scusi, io sono un sincretista e pesco un po' di qua e un po' di là. Ma lei ha bisogno di elaborare un lutto. Ha bisogno di dire addio alla sua vita passata. Ha bisogno di vivere nel presente. Un uomo non può vivere come lei, dottor Pereira, pensando solo al passato. E le mie memorie, chiese Pereira. E quello che ho vissuto sarebbero solo una memoria, rispose il dottor Cardoso. Ma non invaderebbero in maniera così prepotente il suo presente. Lei vive proiettato nel passato. Lei è qui come se fosse a Coimbra trent'anni fa e sua moglie fosse ancora viva. Se lei continua così, diventerà una sorta di feticista dei ricordi e magari si metterà a parlare con la fotografia di sua moglie. Pereira si asciugò la bocca col tovagliolo, abbassò la voce e disse «Lo faccio già, dottor Cardoso». «Ci parlo a voce alta. Gli racconto tutte le mie cose ed è come se il ritratto mi rispondesse». «Sono fantasie dettate dal superego», disse il dottor Cardoso. «Lei dovrebbe parlare con qualcuno di queste cose». «Ma non ho nessuno con cui parlare», confessò Pereira. «Sono solo. E ho un amico che fa il professore all'Università di Coimbra. Sono stato a trovarlo alle terme di Bucaco e sono partito il giorno dopo perché non lo sopportavo. I professori universitari sono tutti a favore della situazione politica attuale. E poi c'è il mio direttore, ma partecipa a tutte le manifestazioni ufficiali con il braccio teso come un giavellotto. Figuriamoci se posso parlare con lui». E poi c'è la portiera della redazione, la Celeste, che è un'informatrice della polizia. E adesso mi fa anche da centralino. «Ci sarebbe Monteiro Rossi, ma è latitante». «È Monteiro Rossi che ha conosciuto?» chiese il dottor Cardoso. «Sì, è il mio praticante», rispose Pereira. «Un ragazzo che mi scrive gli articoli ma che non posso pubblicare». «E lei lo cerchi?» replicò il dottor Cardoso. «Lo cerchi, dottor Pereira. Lui è giovane. È il futuro. Lei ha bisogno di frequentare un giovane, anche se scrive articoli che non possono essere pubblicati sul suo giornale. La smetta di frequentare il passato. Cerchi di frequentare il futuro». «Che bella espressione», disse Pereira. «Frequentare il futuro». «Che bella espressione!» «Non mi sarebbe mai venuta in mente». Il dottor Cardoso beve il caffè che Manuel gli aveva portato e Pereira disse «Ma lei mi lascia, dottor Cardoso». «Io posso parlare con lei a San Malò se mi verrà a trovare, dottor Pereira», disse il dottor Cardoso. «Non è detto che questo paese sia affatto per lei». «E poi è troppo pieno di ricordi». «Cerchi di buttare nel rigagnolo il superego e dia spazio al suo nuovo io egemone». Il dottor Cardoso si alzò e lo salutò. «A presto, dottor Pereira», disse. «Spero di rivederla in Francia o in un altro paese del vasto mondo e mi raccomando, dia spazio al suo nuovo io egemone. Lo lasci essere». Ha bisogno di nascere, ha bisogno di affermarsi. A presto, a presto, a presto, a presto. A presto, a presto, a presto, a presto.